Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, sono Simone e siamo qui su una partita già incominciata di Call of Duty Black Ops 3. Tanto qui c'era un nemico che stiamo seguendo, è scomparso, prima kill del video e della partita perché era già incominciata ma ho visto anch'io. Ho registrato ma, vabbè sono sbagliato io, fortuna che lui non è bravo a mirare, sono morto, mamma mia che culo, scappa scappa scappa, sta qua, riuscirò a finire la frase, si, vabbè sono morto, era già cominciata la partita, ho provato a registrare all'inizio ma non so perché non è partito, sono ancora in tempo visto che siamo ancora all'inizio. Ma non è morto ragazzi, non è morto. Allora, ho detto finalmente perché sono ritornato a fare i video, soprattutto ho acquistato quello che ho detto di Black Ops 3, è da tre settimane che ce l'ho e volevo dirvi un po' di quello che penso su questo gioco molto divertente. Bene, innanzitutto io credo di essere pronto a dire quel che penso perché ormai è da tre settimane che ci gioco e ci gioco davvero tanto. E scusate anche se in alcuni momenti starò zitto, ma però sto cercando di fare una bella partita, intanto ce n'erà uno qua che non so più dov'è, morto, invisibilità e spacchiamo i pugli a tutti. Togli, ma guarda che non si toglie da lì, madonna mia. Eh vabbè da dietro, dai eh. Dai però, incominciamo già così. Eh. Ma dai. Voglio che sia una bella partita questa, non un disastro totale. Aiutatemi voi a meno vincere questa partita. Eh dai, continuiamo così, andiamo avanti. L'importante è vincere. Con un punteggio negativo, positivo, ma l'importante è vincere. Sono qua dietro, sono qua, sono qua. C'ho paura di muovermi, raga. C'ho paura di muovermi. Ma non muoio, no. Ah, me l'ho ucciso. Eh! Mamma mia che c***o! Almeno uno, maledizione, almeno uno. Usiamo un VMP. Ma che cos'è questa partita? Mi fate incazzare così? No, dai. Uffa, oh ragazzi. Prima ho fatto delle partite decenti, ma non è partito la registrazione. L'ho dovuto... Olè! È da dietro. A me ho ucciduto solo da dietro, è una cosa incredibile, però... Eh, è così il gioco. Ma maledizione a voi, mi sta anche laggando. Perché quel personaggio sta mandando scatti? Non voglio che sia tutto questo per partita, malediziare. Oddio! Headshot! Ma come fanno? Come fanno, io dico? Boh, vabbè. Io prima stavo dicendo... Anzi, le mie impressioni, vabbè. Le mie impressioni sono tutte... Cioè, sono soddisfatto. Oddio, che è successo? Ah, abbiamo vinto. Sono soddisfatto pienamente da questo gioco, mi piace davvero moltissimo, mi sto divertendo davvero molto, molto, molto. Mi ripeto, molto. Non ha nessun problema, a parte in questa partita, qui sto andando in negativo, ma stiamo vincendo. L'importante è vincere, ragazzi. Intervallo. Però, ma non perché i server non funzionano, ma perché la mia connessione adesso sta andando un po' male. Allora, è per questo, siccome a volte vedete che andava a scatti. Stamattina andava bene, ho provato a fare delle partite, le ho registrate, però mi sono accorto che l'audio e il video non combaciavano. Allora, ho dovuto togliere, perché ormai, non posso mica caricare un video con cui l'audio e il gioco e il video non vanno in sincronia. O meglio, non fallo. Loro sto facendo uno adesso, sperando che funzioni. Spero. Però, la partita non è una tra le mie migliori di oggi. Muori. Vai a quel paese immediatamente. Vabbè, a parte che adesso ho anche la mia mi randri, che sia una delle migliori, eh. Bravo. faccio quello che posso. Andiamo qui. Come vi siete accorti, le mie armi, la mia classe di armi preferite sono le mitragliette. Avete visto, ho il CUDA, però non sono utili da lontano. Ho il CUDA, le BMP, però, se volete sparare da lontano, lo sconsiglio, usate i geni d'assalto. Però da vicino sono veramente forti. perché mi ramè quello? Perché mi ramè? Perché? Siamo in due, proprio mai devo uccidere? Dai, concentriamoci, ragazzi. Sono davvero dispiaciuto che questa partita sia muta così, anche se non volevo, però, non posso farci niente. non muori, vedi, vedi, dai, tutti insieme facciamo una mega festa, dai. Sono davvero dispiaciuto che sia muta così questa partita, non volevo, però, è venuta così, giro molto, mi rubato, con pazienza, ne farò una ragione. Ma non è muore, non muore, ragazzi, non muore. Non ce n'è nessuno, andiamo via, andiamo via. Andiamo su A, Mamma mia, il BMP cosa si fa? Ah, tu vai lì, io vado qua. Ma basta, ragazzi, basta. Basta, pietà di me, vi prego. Non muore! Ma cosa vi ho fatto io? Dava bene fino adesso? Ci avrei giurato, ci avrei giurato quando l'avessi ucciso. Non giudicate in modo negativo questo gioco da questa partita, perché se ne saranno molte altre che partite sul canale, sicuramente saranno migliori di questa. Però, neanche male, 27-23, l'abbiamo anche vinto, non è neanche stata male, a parte l'inizio, però dopo ci siamo ripresi. Va bene ragazzi, visto che la partita è finita, lasciate un like, lasciate un commento, con scritto come migliorare in generale. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao raga! Ciao!